Il governo su tematiche concrete. Abbiamo già iniziato, noi abbiamo ribadito anche con Teresa Bellanova, una frase che altri usano per altri, io dico, meno male che c'è Mattarella. Si tratta di un ragionamento articolato e ritengo e riteniamo che quelle parole siano un gravissimo vulnus all'affidabilità del nostro paese. Grazie a tutti.